Una partita strana per due set, non verresti aspettata una differenza del genere? Siamo stati molto bravi al primo set, eravamo indietro, un po' come al primo set di Trento Siamo stati bravi con l'atteggiamento insieme e quello ha fatto una differenza Dopo al terzo set di quali siamo in difficoltà, però siamo stati insieme molto concentrati Oggi 3-0, però di là sarà molto duro Con Trento vi siete esaltati quando il pubblico era quello nemico, quando il pubblico urlava contro di voi A Trento vi siete esaltati Con Peruso volete parlare? Siamo più concentrati, siamo stati più chiusi Abbiamo provato così oggi e ha funzionato, quindi continuiamo così Ti chiedo un'ultima cosa, ne è mai tornato, sembrerebbe essere tornato Sì, anche secondo me Grazie